Abbiamo qui con noi il dottor Filippo Massariello di ABB, Divisional Account and Segment Manager e la sua nuova funzione all'interno della divisione Discret Automation and Motion. Cosa sta cambiando nell'approccio al mercato di ABB? Il portafoglio prodotti della nostra divisione è in continua crescita, attraverso sia acquisizioni, abbiamo acquisito alcune società e comunque stiamo pianificando altre attività, sia attraverso crescita interna, quindi con lo sviluppo di nuovi prodotti. Addirittura oggi presentiamo le ricariche per l'auto elettrica, la stazione di ricarica veloce, quindi qualcosa di nuovo sviluppato all'interno. In questo, soprattutto nel pacchetto Motion, ci presentiamo con una nuova offerta molto più allargata. Avere adesso, non essere più solo gli specialisti di alcuni prodotti per questo segmento, ci permette di offrire una soluzione, non solo un prodotto. Quindi il nostro approccio sta cambiando proprio in termini di risposte che vogliamo dare ai nostri clienti, cercando di fornire una soluzione un po' più integrata e quindi con un approccio uniforme, omogeneo a quelle che sono le richieste. Quali sono le forze che spingono questo cambiamento? Ormai i nostri clienti, soprattutto in Italia, esportano fino all'80% o anche di più della loro produzione. Quindi tutti ormai, se non esportano, comunque si confrontano con player globali. Il lavorare in un mondo ormai globalizzato, dove l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti è la chiave di volta per rimanere competitivi, fa sì che non si voglia più lavorare solo con dei fornitori che forniscono dei prodotti a specifico, a richiesta. Ma dal fornitore si richiede una partnership, la capacità di sedersi al tavolo insieme ai nostri clienti, non più uno di fronte all'altro, come siamo noi adesso, ma magari uno di fianco all'altro a sviluppare le soluzioni insieme. Quindi questo nuovo atteggiamento, questo nuovo trend del mercato, fa sì che anche noi abbiamo cambiato il nostro approccio. Lei ha ricoperto diversi incarichi in ABB in un tempo breve, considerando la sua età. controllo di gestione, direttore di stabilimento, direttore vendite, direttore di tutta l'unità di business, fino ad un incarico internazionale. Che valore dà all'essere politico? Io creo che la politicità sia figlia della curiosità. ABB dà molto spazio alle idee, all'innovazione, alla volontà di crescere e di fare cose nuove. Questo insieme a una curiosità mia, personale, innata, che abbiamo tutti, ma che qualche volta si tira fuori di più o di meno, ha fatto sì che potessi coprire diverse funzioni ed imparare tantissimo. Perché poi ogni volta che si cambia, anche all'interno di ABB, si impara e ci si fa molta più esperienza. Grazie.